Scusate, nella tocca della foca, cioè nella foca di messa della gara. L'avvocato, questa è la prova. Sì. Tutto in ordine. Faccio un articolo da prima pagina. L'avvocato Savino Lagrasta. No. Col colesterolo a 780. Cesserini, ma vuoi togliere questo coso per piacere? Praticamente è una causa già vinta. Con la tua abilità di oratore sarà uno scherzo. Abbia pazienza, eh, signorina. E allora lo fa apposta, quella violenta un'altra volta. Entra la corte. Non si lamenti. Oh, la borsetta. Mi si è sporcato pure lo stivale. Chiedi. La gabbietta. Quale gabbietta? La fracchetta. Che? Mi sembra. Mi sembra. Ma come? Spaccio! Spaccio! Scusi. Silenzio, silenzio! Avvocato Lagrasta, vada ricoporsi per cortesia. Silenzio, 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 silenzio! Non facciamo i conti. Scusate, nella tocca della foca, cioè nella foca di messa della foca. Avvocato, questa è la prova. Sì. Tutto in ordine. Faccio un articolo da prima pagina. L'avvocato Savino Lagrasta. Col colesterolo a 780. Cesserini, mi vuoi togliere questo coso per piacere? Praticamente è una causa già vinta. Con la tua abilità di oratore sarà uno scherzo. Abbia pazienza, signorina. E allora lo fa apposto, quella violenta un'altra volta. Entra la corte. Ma non si lamenti. Oh, la borsetta. Mi si è sporcato pure lo stivale. Chiedi? La gabbietta. Quale gabbietta? La fracchetta. La fracchetta. Oh, oh. Sei mio. Sei. Oh. Oh, oh. La troppa?